Salve a tutti, sono Fabrizio Anelli, titolare di un centro di radiologia VOLUX e titolare di un laboratorio di ortodonzia TEOR. Vi faccio questo annuncio perché vi aspetto a Montesilvano al convegno Antlo dove ci saranno relazioni di alto livello scientifico e dove ci sarà anche la mia relazione che riguarderà le nuove frontiere dell'imaging 3D. Quindi a partire dalla radiologia fino ad arrivare al laboratorio di ortodonzia in 3D. Vi aspetto a settembre e buona estate!